Allora, innanzitutto chiariamo che ho dato le deleghe a tutti, nel senso la mia proposta è stata a tutti i consiglieri. Tutti i consiglieri hanno manifestato la volontà di accettare, tranne il consigliere del Movimento 5 Stelle, al quale credo che sarà assegnata una presidenza di commissione della città metropolitana. Quindi la cosa bella è che c'è davvero un bel clima, che non è un clima di alleanze politiche, perché io l'ho detto subito all'inizio di quest'anno, è una cooperazione istituzionale in un ente che è complicato per come è stato previsto dalla legge, quindi non c'è una maggioranza e non c'è un'opposizione, quindi il mio appello a lavorare insieme per l'ente nell'interesse dei cittadini pare che è stato raccolto. Quindi io questo la vedo una bella notizia, che le deleghe anche di qualità distribuite bene, quindi non c'è un gruppo privilegiato rispetto ad un altro e credo che potremmo lavorare molto bene insieme. Poi ognuno ha le proprie politiche, le mie sono, come sapete, assai distanti da quelle di tanti consiglieri, però lo spirito di tutti i consiglieri che ho incontrato in queste settimane l'ho molto apprezzato. De Luca non so che commentare, insomma, visto che ha fatto un appello preventivo affinché non accettassero le dele. Io penso che in questo spirito costruttivo io continuo a dire, e lo dico anche al presidente De Luca, non faccia l'errore che ha fatto Matteo Renzi qualche mese fa. La cooperazione istituzionale è fondamentale. Io per questo ho apprezzato i primi passi del governo Gentiloni, col quale c'è una differenza politica enorme, però la cooperazione istituzionale, Bagnoli, Patto per Napoli, Bando delle Periferie, è stata una cooperazione importante. In queste ore c'è un po' la prova del 9, l'ho detto prima, il CR8 è un po' la prova del 9. Dobbiamo capire se c'è qualche volontà politica che frena, perché a livello tecnico si era raggiunto una condivisione, perché la vicenda è molto chiara, o diciamo sufficientemente chiara. Ecco questa credo che è un po' una prova del 9. Un po' la prova del 10 sarà Bagnoli. E' chiaro, se la prova del 9 fallisce, si fa un passo indietro, ma non per nostra volontà. Vorrà dire che è accaduto qualcosa in queste ore? C'è qualcuno che interviene perché c'è qualche partita politica? Ci sono le primarie del Partito Democratico? Non lo so. Sono dei punti interrogativi. Vediamo che succede. Io confido che rimanga quel livello di cooperazione istituzionale che ho apprezzato e non mancherò di apprezzare, così come vorrei incontrare il Presidente De Luca, al quale, come sapete, ho anche scritto, senza riceverne risposto, ho anche fatto appello a incontrarmi. Qui non siamo noi che mettiamo a rischio la cooperazione istituzionale, e la conferma è anche questo appello preventivo che lui fa ai consigli metropolitani di non collaborare, ma non col sindaco, con la città metropolitana e fare gli interessi dei cittadini, e tra l'altro di molte amministrazioni locali, i cui sindaci non sono certa guida tema, ma sono una guida Partito Democratico. Quindi, come vedete, il profilo istituzionale di Luigi De Magistris, anche come sindaco della città metropolitana, non può essere messo in discussione.